Ecco la scena cruda che si è presentata davanti agli occhi dei automobilisti in transito sulla strada provinciale che collega Sondrio alla Valmalenco. Una cerva gravemente ferita, una zampa, il sangue sparso sull'asfalto. La fotografia è stata scattata venerdì sera da Maurizio Piasini, presidente del consiglio comunale di Sondrio. Stavo scendendo dalla Valmalenco, ci spiega l'esponente del carroccio, quando sono arrivato all'altezza di Mossini. Ho visto un'auto ferma sulla strada con i fari accesi. Il conducente era sceso per aiutare la cerva. L'aveva legata al guardrail in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Il timore era infatti quello che la povera bestiola ferita si allontanasse nei boschi. Con quelle ferite le sue speranze di sopravvivere sarebbero state pochissime, quasi nulle. Probabilmente era stata investita pochi minuti prima da qualcuno che poi si era allontanato, spiega Maurizio Piasini, senza segnalare l'accaduto alle autorità competenti. Un fatto grave, sottolinea il presidente del consiglio comunale di Sondrio, prima di tutto perché in caso di investimento di selvatici bisogna fermarsi e contattare il numero unico di emergenza 112, passo necessario per far arrivare sul posto la polizia provinciale e il veterinario. In provincia di Sondrio, ricorda Piasini, abbiamo il centro di recupero degli animali selvatici di Ponte in Valtellina, struttura specializzata nella cura degli esemplari feriti. Chi scappa dopo aver investito un cervo, rimarca l'esponente della Lega, non rispetta il codice della strada né il nostro patrimonio faunistico. Ricordo anche che i cittadini che guidano veicoli nel territorio di regione Lombardia, conclude Piasini, su strade statali, regionali, provinciali e comunali, che abbiano subito un danno a seguito di collisione investimento con fauna selvatica, possono presentare domande di rimborso del danno subito.